7 sono le parole chiave. Per essere bravi sportivi e bravi cristiani. Lealtà. Lottare contro la tentazione delle scorciatoie. La scorciatoia è l'arte di imbrogliare. Il gioco e lo sport sono belli quando esse rispettano le regole. Senza regole ci sarebbe solo una confusione totale. Rispettare le regole è, accettare la sfida di battersi con l'avversario in maniera leale. L'impegno. Il talento è nulla senza applicazione. Nello sport non basta avere talento per vincere. Occorre custodirlo, plasmarlo, allenarlo per far emergere il meglio di noi. La stessa parabola dei talenti ci viene in aiuto in questa riflessione. Il servo che al ritorno del padrone restituisce il talento ricevuto, che per paura aveva nascosto sottoterra, viene considerato malvagio non perché ha rubato ma proprio perché non ha messo a frutto ciò che aveva ricevuto in dono. Gesù è un allenatore esigente. Se sotterri il talento, non fai più parte della sua squadra. Dunque, avere talento è un privilegio ma anche e soprattutto una responsabilità, di quelle rischiose da custodire. Sacrificio. A nessuno piace fare fatica perché la fatica è un peso che ti spezza. Se, però, nella fatica riesci a trovare un significato, allora il suo gioco si fa più lieve. L'atleta è un po' come il santo. Conosce la fatica ma non gli pesa perché. Nella fatica intravede l'obiettivo. Trova una motivazione che gli permette non solo di affrontare la fatica ma quasi di rallegrarsi, senza motivazione, infatti, non si può affrontare il sacrificio. Inclusione. Lo sport che valorizza la diversità. All'inizio dell'esperienza delle Olimpiadi, si prevedeva la tregua dalle guerre nel tempo delle competizioni. Quindi, ogni quattro anni, il mondo ha la possibilità di fermarsi per chiedersi come sta, come stanno gli altri. Ci sono state Olimpiadi che sono state simbolo di lotta al razzismo, all'esclusione, alla diversità. Celebrare le Olimpiadi è una delle forme più alte di ecumenismo umano. Di condivisione della fatica per un mondo migliore. Chiediamo al Signore la grazia di poterci avviare verso un anno di ripartenza di tutto avendo nel cuore la costruzione di ponti invece che di muri. Spirito di gruppo. Solo come squadra ci si salva. Nessuno si salva da solo. Gli sport di squadra assomigliano a un'orchestra. Ciascuno dà il meglio di sé per quanto gli compete. Sotto la sapiente direzione del maestro d'orchestra. E noi come cristiani. Facciamo gioco di squadra. Ascesi. Da buoni cristiani non dimentichiamo di avere un'arma in più. La preghiera. La preghiera è l'allenamento che ci fa raggiungere vette alte e ci rafforza nello spirito e di conseguenza nel corpo. È l'incontro con Gesù. Il riscatto. Non basta sognare il successo. Occorre svegliarsi e lavorare sodo. È per questo che lo sport è pieno di gente che, col sudore della fronte, ha battuto chi era nato con il talento in tasca.